Carissimi amici di Italian Fishing TV, manca davvero pochissimo al Pescare Show. Il quartiere fieristico di Vicenza nei giorni dal 26 al 28 di novembre si veste di tantissime novità. Noi di Italian Fishing TV naturalmente a questo grande evento non possiamo mancare. Se non lo avete già fatto segnate queste date. Dal 26 al 28 novembre vi aspettiamo a Pescare Show. Grazie a tutti.